Il piano di dimensionamento scolastico penalizza ancora una volta il marmoplatano. Lo afferma il capogruppo di Laboratorio Basilicata Fratelli d'Italia, Gianni Rosa, che annuncia la presentazione di alcuni emendamenti con l'obiettivo di tutelare le nostre comunità per evitare che la mannaia della riduzione della spesa si abbatta sui servizi destinati ai cittadini. Rosa ricorda che la proposta di dimensionamento prevede lo smembramento dell'Istituto Superiore Enrico Fermi di Muro Lucano, ma a suo parere, viste le numerose deroghe operate negli anni passati, non si comprende per quale motivo in questo caso si sceglie la mannaia. Non si può permettere che vengano soppressi i presidi culturali sull'altare del risparmio della spesa, aggiunge ancora Rosa, osservando che questo piano è stato elaborato senza ascoltare le parti sociali e soprattutto i cittadini. Per questo motivo Rosa chiede che il piano venga emendato, prevedendo la deroga al limite di 400 studenti o in alternativa l'accorpamento dell'Istituto Tecnico di Brienza con l'Istituto Fermi di Muro o meglio con l'Istituto Comprensivo Stella di Muro Lucano.